Chi è il vichingo più famoso della storia? Beh, naturalmente Ragnar Lothbrok, anche se un po' leggendario, Rollo, quello vero, che fondò il Ducato di Normandia, come sovrani aggiungerei anche Harald Ardrada, re di Norvegia, e poi tra gli esploratori Erich in Rosso, Leif Erikson e Thorfinn, che raggiunse le Americhe.